Venerdì è stato ospite della stagione musicale del Teatro Comunale di Monfalcone in esclusiva regionale Fabio Armiliato, vero e proprio fuoriclasse del bel canto, tenore conteso dai teatri di tutto il mondo. Armiliato è il protagonista insieme al pianista ed arrangiatore Fabrizio Moccata di Recita al Cantango, omaggio a Schipa e Gardel. Opere e tango, spettacolo nato dalla comuni passione per il tango in cui le canzoni di Tito Schipa e Carlos Gardel si abbracciano per raccontare gli avvenimenti storici e di personaggi della cultura e dello spettacolo, molti dei quali di origine italiana, che hanno dato vita e lustro alla canzone del tango all'inizio del secolo scorso. Cantanti, attori e compositori Schipa e Gardel ci mostrano il comune denominatore di un'arte vocale fondata sul recitar cantando, considerata da sempre la radice del melodramma e di tutta la moesia in musica. Un'affascinante recital di tango, Canxiones, che accompagna il pubblico in un viaggio rideale a ritroso nel tempo e racconta l'emigrazione e la convivenza delle diverse tradizioni culturali nell'America Latina di fine ottocento e inizi novecento. In scena, a fianco di Armiliato è Moccata, i musicisti Gino Zambelli al bandoneon, Gianmarco Scaglia al contrabbasso e Gen Lucaci al violino, a tessere le fila della narrazione suggerita, dalle coreografie mimate e danzate, dal duo Los Guardiola e la voce recitante di Anna Carina Rossi, che incarna l'alma del tango. Gino Zambelli al bandoneon, Gino Zambelli al bandoneon, Gino Zambelli al bandoneon, Gino Zambelli al bandoneon, Grazie a tutti.